Nuova iniziativa dell'assessore regionale al turismo Corrado Matera che punta ad intercettare e portare nel Vallo di Diano i flussi turistici diretti a Matera, capitale della cultura 2019. In quest'ottica si inserisce la reiterata richiesta inviata a Ferrovie dello Stato per ottenere la fermata di quattro intercity sulla tratta Roma-Taranto e del Frecciarossa sulla tratta Milano-Roma-Taranto alla stazione di Sicignano degli Alburni. La richiesta viene giustificata sulla base delle diverse iniziative culturali che vedono coinvolte Campania e Basilicata, regioni legate non solo nei confini ma anche nella storia. Con i numerosi eventi promossi dall'assessore Matera in questi ultimi anni nel Vallo di Diano, si è cercato di preparare il territorio ad essere una tappa culturale per intercettare i flussi turistici diretti a Matera in questo 2019, un'occasione importante anche per far comprendere a Ferrovie dello Stato il valore turistico del Vallo di Diano, su cui in futuro potrebbe rivelarsi interessante investire. Per dare ulteriore forza alla richiesta rivolta a Ferrovie dello Stato, l'assessore Matera ha spiegato nella lettera che ad occuparsi dei collegamenti da e per il Vallo di Diano sarebbe la regione Campania con l'utilizzo di navette senza quindi gravare economicamente sull'ente ferroviario. La missiva richiede una rapida risposta in quanto indispensabile avviare da subito la programmazione delle nuove fermate in vista dell'inizio del ricco calendario di eventi organizzato nell'ambito del progetto La Congiura dei Baroni con iniziative che nel periodo dal 1 luglio 2019 al 19 gennaio 2020 animeranno il territorio di spettacoli, rievocazioni storiche, mostre e appuntamenti culturali di grande rilevanza storica e artistica e che meritano di essere attenzionate. Con le fermate di Intercity e Frecciarossa Sicignano sarà più facile intercettare quindi i flussi turistici diretti a Matera e di conseguenza promuovere un territorio ricco come il Vallo di Diano. Un eventuale ok da ferrovie dello Stato potrebbe creare presupposti per provare a rendere la fermata di Frecciarossa Intercity permanente dimostrando come, con i giusti collegamenti, il Vallo di Diano può portare a un numero di presenze tale da giustificare eventuali investimenti ferroviari.